Nuovo intervento della Fondazione, tornano i bandi anche con un'entità considerevole per ripartire. Il bando è un bando di 85.000 euro e in più la Fondazione ha mantenuto dei fondi per progetti propri, progetti propri che non è detto che è la Fondazione totalmente a deciderli. Per quanto riguarda uno dei settori, il settore di arte e cultura e come quello del volontariato, sono stati destinati più fondi. Abbiamo potuto fare questo perché per quello che riguarda la salute pubblica noi abbiamo già fatto un grosso intervento a favore della nostra ASL alla quale abbiamo destinato il comodato d'uso, i locali di Piazza Verdi una volta ospitavano la scuola elementare e l'assilonito dove la ASL potrà sistemare i propri uffici, vaccinazioni ed anche la scuola infermieri. In Svizzera abbiamo avuto notizia da poco, entro ottobre probabilmente sarà conclusa la prima parte e si passerà ai processi, processi che a quanto ci viene detto sono sicuramente più veloci dell'istruttoria. Per cui noi siamo altamente fiduciosi di poter recuperare, non dico tutto, ma parte delle somme che sono incappate nella truffa. In Lictastai siamo in attesa di ulteriori comunicazioni da parte dei nostri avvocati. Nel 2021 ci saranno naturalmente ulteriori pesanti riferimenti a quella che è stata la situazione di Mecenate che si dovrebbe concludere ma ancora c'è uno strascico considerevole. Lo strascico ancora c'è, c'è stato quest'anno che la cifra che abbiamo dovuto dare a Mecenate ha superato i 200.000 euro. Riteniamo che entro la fine dell'anno riusciremo a chiudere completamente questa vicenda con la cancellazione del registro delle imprese, però noi dovremmo ulteriormente versare 500.000 euro. Per il resto noi continuiamo ad andare avanti, sicuramente di idee ne abbiamo molte, non abbiamo paura, non ci facciamo spaventare e non rischiamo che la fondazione possa scomparire tra due, tre, quattro anni. Noi andiamo avanti e sicuramente ce la riusciremo a fare. Il punto di arrivo di un lavoro molto sinergico che abbiamo fatto in questi anni, di una politica finanziaria che guardava la ristrettetta, la funzionalità e anche sul piano strutturale, quindi una riduzione della spesa che ha riguardato tutti, sia gli amministratori, gli impiegati, tutti quanti, proprio con l'obiettivo di mettere a disposizione maggiori risorse a favore dell'associazionismo e dei comuni per poter svolgere le proprie attività.